Lutto nel mondo della musica. E' morto infatti proprio oggi 13 ottobre 2016 alle ore 12.40 Alberto Fortuni che era costruì era chitarrista della famosa cover band Veneta di Vascozzi che si chiama mi ricordo nuovo Fronte. Ad annunciarlo sarebbe stata la stessa band nella propria pagina di Facebook. L'uomo era molto giovane, pensavo infatti che aveva solo 58 anni d'età. Lascia una moglie, due dei miei piccoli, di 8 e 3 anni, su Facebook quasi un migliaio di mi piace presenti e di centinaia di commenti e condivisione per un personaggio molto amato. Ricordo che l'uomo in questione purtroppo era malato da un po' di tempo. Questo sarebbe quanto. Grazie per l'ascolto, grazie per la gentile visione. Questo video non vuole assolutamente legere la privacy di Alberto Fortuni e o della famiglia Fortuni. Questo video vuole solo ed esclusivamente informare eventuali persone di questo tragico ditto nel pieno rispetto della privacy di Alberto Fortuni. Grazie, cordiali saluti.